Ciao a tutti ragazzi da TheFaceGame, Trevor in mutande! Ciao! È in mutande, ma perché in mutande? Perché hanno comprato la macchina nuova! Ah! È rimasta in mutande! Guarda che macchina! Ma perché l'hai rotta? E non è mia! Vabbè ragazzi, allora, l'obiettivo che sto giocando Tiboo non è GTA Online, c'è Trevor... Sì, perché ci sono un po' rotti le palle, perché ogni missione che facciamo si esce dall'Xbox Live! Allora abbiamo detto, adesso facciamo così, una volta tipo cazzo già andato su Ford Zancudo, come cazzo si chiama, e si è messo... Ma lo assegno un attimo! Si è andato sulla mappa! No, sei anche vicino! E si è messo praticamente a correre, a farsi inseguire dai soldati! Eh, adesso si metterà a correre in giro per la pista, in mutande! Esatto, e vediamo quanto resiste vivo! Si va correndo, l'altra volta l'ho fatta con una Lamborghini! Devo dire la verità! Si, però magari adesso lo stesso... Però l'altra volta questa macchina non mi sembra tanto amare! Magari potresti dare a modificarla! Quindi noi metteremo un bel timer! Appena entra dentro al Ford Zancudo metteremo un timer! Dov'è? Che ci indica... Taylor! Si ho capito! Che ci indica il tempo che Tiboo sta in vita! Allora ragazzi adesso Tiboo va a modificarsi l'auto! Io posso anche distruggerla adesso la macchina! Ma puoi anche evitare! Cioè almeno cerca di portarla lì prima! Magari così non sprechi troppi soldi eh! Beh, chi è in questa macchina mi sembra? No, ho fatto il freno a mano! Eh, addirittura! Un chilometro ai metri! Che palle! Ah! Ecco noi parlavamo dell'altro giorno! Secondo voi i chilometri? Eh, i chilometri! Sono... Esattamente... Sono giusti quel chilometro! Vedete? I cento metri scendono come non so cosa! Li guardate! Oh Matteo! Scusami stai andando a duecento chilometri all'ora! Ma mi piace di scrivere i metri! Perché non scrivono la velocità? Uh! Che bella per la macchina bianca! È più bella questa! È più bella questa! È più bella questa! Sì è più tamarrata! Allora perché è tamarrata per questo! Adesso andiamo a tamarrata! Eh ma cazzo! Eh scusate! Allora in GTA! Cazzo ho trovato una bella macchina! Quella! Quella è importantissimo! Ah! Questa ragazzi è rarissima da trovare nel single player! Ma è una Ferrari! Eh ti fa il dito! Ti ha fatto il dito! Adesso gli incurrò la macchina! Ah! Che bell'uomo! Trevano per essere proprio persone di classe! Però questa è cabrio! Attento che potrebbe essere geloso della sua macchina! E infatti è diventato rosso! Eh dimmi! Ok! Questa qua ragazzi va come una bestia! Sì! Adesso vediamo il conto del punti schianti! Ah no! Aspettati! Guarda che questa! Forse non posso modificarla! Tu prova! Ma no! Forse solo nell'online! Vediamo un po'! Perché nell'online mi ha detto che non poteva modificarla! Ma spero per te che si può! Quanto corre! Spero per te che si possa modificare! Allora! 400 metri l'obiettivo! Vediamo il box! 400 metri per rendersi conto del fortuna minchiana! Eccosi qua! Andiamo a sinistra! E bisogna dire la strada tipo eh! Adesso! A destra! A destra! A destra! Bravo! Sì! Adesso punta! Punta quel punto! Corri! Corri! Sfondi! Anzi! Posso modificarla! Lo santo scusto! Perfetto! Adesso la modifichiamo! Grotti carbonizzare! Allora! Intanto! Per favore! Che cazzo sportiva! Quel colore osceno per favore! Allora! Buona armatura! 100%! Abbiamo soldi! Sì! Eh! Mica tantissimi! Buon dai! L'importante è il motore dai! Il motore! Cambiamo il motore! Buon! Bestia! 16.000! Dai marmite! Il turbo è importante! Buon! Allora! Cofani! 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 Lo vedi dopo! E' molto voluto così anche! Il claxon! E' importantissimo! Questo è perfetto! Allora! Non è che sentite cosa fa! No! Ma chi se frega di farlo! Metti quel cazzo! Ah la tua ragazzo! Abbiamo ancora la persona! No! Purtroppo non so perché non viene fuori! Ho portato a scercare l'app ma non funziona! Cosa sta roba? No! Il colore è principale! Colore rosso va bene! Sì! È bello! Bello! Molto bello! spensione al minimo ovviamente ragazzi ricordatevi che devono farci inseguire da soldati con i cadi armati questa macchina qua è bellissima però verrà distrutta completamente le ruote vanno bene? no devi mettere quella antiporaggio è vero, no cazzo, quanto è importante ruote, accessori, gomme antiproiettili, è il primo ok questo è fondamentale bravo Rinegan, non vi ricordate finestrini che non c'è gli acco no tu metti ma che cazzo è bello il finestrino, proprio bello beh il finestrino di miglia, è capottabile possiamo andare no il colore è già che c'è tira su la capota in teoria con l'analogico, stai schiacciando l'analogico no sta schiacciando il sinistro delle prezze sinistro, la radio, la premuta per me è l'analogico, prova no vabbè, l'altro è l'analogico ma mettieni quel colore di merda è bellissimo ma io volevo quello tutto quanto figo è una Ferrari ah il cromato si io volevo il cromato è una macchina è una finta d'assolico comunque vediamo quanto corre adesso secondo me vado a schiantarmi non arriverò mai là non arrivi con la macchina intera adesso ho visto gli altri youtuber che tengono la macchina perfetta io non ce la farò ragazzi ahhh nooo numero attenzione bene bene qua a destra a destra a destra guardate che tibu corre e dopo non diventare capito no era per evitare le macchine eh però io corro eh cioè rischio 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 eh rischio qui rischio tanto per me mamma mia quando toccherà a me aspetta 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 Taylor quando toccherà a me fare questa roba qui del la sfida nostra eh io la mia sfida non sarà non sarà quando parte entri in Forza Kondo la mia è arrivare fino a Forza Kondo che ha tutto che ha graffiato tutta la macchina eh vabbè ma che cazzo non è culpa mia ho capito infatti secondo me non ci arrivi si guarda che è una tenuta di merda però eh qui è una tenuta di merda è modificata quando è modificata ma sei l'hai messa a bassa al massimo è bravo che no cazzo è solo esteticamente beh però esteticamente è molto fine no è freddissima dai adesso ti mancano 5 km a Forza Kondo no no ti prego ragazzi ci rivediamo a Forza Kondo ok si tagliamo direttamente eccoci qua ragazzi siamo arrivati a Forza Kondo l'obiettivo come già detto prima sarà sempre quello di non farsi beccare cioè appena entra appena tibu spacca l'entrata lì parte il timer esatto ecco parte il timer attenzione guardiamo quanto tempo sopravvive su questa casa di filtra corri 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 l'obiettivo non è rubare ricordiamo che l'obiettivo non è rubare né la C-30 né rubare un jet né una jeep né niente è solo sopravvivere più tempo possibile qui senza nascondersi solo correndo allora qua a Trastello ho le mie Ferrari qua bello pompato ma adesso voglio vedere tutte la mandria di militari che ti corre dietro che cazzo di pali finita la pista vediamo un po' se vengono ecco sono davanti in Italia che sono con i camion boh ma non mi beccheranno mai dai sono troppo lenti voglio stare qua anche mezz'ora dai prendeteci stronzi come se c'è qualche rampa da prendere qualcosa di un camion un camion di pompieri ci sono in camion di ma qua non esco lì puoi saltare oh cazzo cos'è sta roba è un camion oh cazzo camion 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 merda che stronzo per fortuna che l'armatura al centro che cazzo un cararmato scampa oh dio stanno sopra la carta di pista no vado di qua vado di qua tirano sotto tirano sotto non è che fa devi tirare sotto tutti quelli che trovi che cazzo fai cos'era quella roba l'unica roba che non devi tirare sotto la hai tirata sotto oh e se prendi la G130 adesso che sei indisturbato aspetta allora vi vado a fare un giro e dopo ritorno a prendere la G130 provo dai si ma te li tiri tutti prendi un salto no per l'amor di Dio non sono saldi sono barriere lui prende il salto che dà contro il muro esatto pensa che furbo che è te lo allora mi metto qua aspetta un attimo c'è anche un elicottero sopra di te poi arrivano tutti quanti qua io vado a prendermi l'acceso ma prendo si ma c'è l'elicottero sopra di te e che non li spara più di un elicottero e io mi faccio ancora un giretto di qua dai loro arrivano e dopo tu vai via corri via ma quindi non è ok va bene aspetta 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 ancora sono ancora lontano sono lenti eh con quei camion lenti arrivano con il caro armato adesso i camion schivo schivo io intanto guarda quanto corre sta manca sputa fiamme dal culo oh un caro armato un caro armato adesso faccio il giro e sarò indietro c'è un caro oh arrivo vado vai 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 oh un carro mamma mia le jeep le jeep le jeep allora dove cazzo devo girare è a sinistra a sinistra a sinistra per di qua vai dritto di qua di qua a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra ma cazzo è pieno di gente è pieno di gente dietro la gente non sta ad andare c'è troppo gente ci sono 2 a 630 3 ce ne sono ma c'è gente dietro di te le jeep come in parda no vai via vai via vai via vai via vai via guarda quanto sparano la macchina tira lì sotto bravo mamma mia prendere quello dai devo andare a prendere questo no un carro prendi un carro dove li trovi scusami no 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 ti spara vai via ho di retromarcia come dove trovi il carro prendi uno di quelli che è già in corsa ma sei occupato e come fai riesci andiamo a vedere di qua vai lontano aspetta qua cosa c'è che cosa c'è lì un camion un camion mi ha anche fatto la sparra ma scusa dove te si appunto sei ormai sei di famiglia ma dove stai andando ecco vicino a qualcosa di benzina adesso sotto in aria oh bom bom per fortuna si rompe la rete adesso tu fai così ti avvicini 4x4 a un carro armato guarda quanto cazzo di gente ecco ti hanno ucciso ragazzi mamma mia qui scatta il timer questo è il tempo di Tibo non è riuscito a rubare nemmeno un veicolo e vabbè che cazzo ma non era non abbiamo mai detto che doveva rubare un veicolo esatto dobbiamo vedere solo quanto tempo esiste adesso vado io ah si? se dove puoi andare vaffanculo bravo e al prossimo video